Direttore, partiamo proprio dal titolo della mostra. Perché tra cubismo e classicismo? Come si muove tra questi due poli l'arte di Picasso? Noi abbiamo voluto individuare un decennio della vita di Picasso, che è quello che va dal 15 al 25, al centro del quale, piuttosto all'inizio del quale, è collocato questo evento fondamentale che è il viaggio di Picasso a Roma del marzo del 1917. Quindi la mostra presenta gli ultimi propaggini della sua fase cubista negli anni 15 e 16 e tutte le conseguenze straordinarie invece che ebbero su quel momento in Picasso le conseguenze del viaggio a Roma, della scoperta dell'arte classica, dell'incontro con l'arte rinascimentale, ma anche della scoperta dell'arte allora contemporanea italiana, per esempio futurista. Tutto questo poi si riversa in un grosso cambiamento di stile di Picasso che seguendo dei generi più tradizionali, il ritratto, la natura morta, le figure panneggiate, ha una versione meno radicale dell'avanguardia, ma altrettanto incisiva. Il viaggio fu però importante anche dal punto di vista personale e sentimentale per il maestro. Ci può raccontare qualcosa di questo aspetto? Sì, letteralmente cruciale. Per una ragione biografica, lui viene a Roma al seguito dei balletti russi, al seguito di Diaghilev, leggendario impresario dei balletti russi, che aveva portato a Roma con Jean Cocteau, che stava scrivendo il canovaccio di questo balletto in preparazione di nome Parade. Quindi viene a Roma con Cocteau, Diaghilev, Massin, il grande coreografo e ballerino russo Massin, animatore dei balletti russi, e la compagnia dei balletti russi, fra cui c'era Olga Koklova, questa bellissima giovane ballerina che conosce a Roma e di cui si innamora a Roma, e che sposerà a Parigi appena tornato in Francia, che appunto sarà la madre del figlio Paolo, raffigurato come Pierrot e come Erlecchino nei meravigliosi dipinti che abbiamo qui in mostra. Oltre a questo, appunto, dicevo, l'esperienza personale e professionale di interdisciplinaria che lui ha in questo contesto dei balletti russi, conoscendo appunto musica, il balletto, la danza, il teatro, la poesia, tutto questo a Picasso stimola in una maniera straordinaria e lo porta alla riscoperta delle proprie radici classiche. Parlando delle meravigliose opere in mostra, può evidenziarcene alcune particolarmente cruciali per il percorso della mostra? Questa volta è davvero difficile selezionare perché davvero sono tutte opere di grandissimo livello, quindi davvero potrei scegliere, qualsiasi scelta sarebbe una buona scelta. Direi che per le fasi che abbiamo rappresentato, la fase cubista ha questo meraviglioso quadro della Pinacoteca Agnelli, che è l'apertura della mostra, che è molto d'impatto. Nella seconda sala abbiamo portato il grande dipinto proveniente da Pompidou, che vedete alle mie spalle, che è un dipinto importantissimo perché è proprio quello che Picasso ha realizzato a Roma nel 1917, che è debitore, è ancora un dipinto, diciamo, legato in qualche modo alla strazione, ma in maniera meno radicale, e soprattutto è legato anche al futurismo. Pensiamo a De Piero, è un quadro in cui si vede quanto interesse avesse Picasso anche per le figure contemporanee dell'arte italiana. Tutta la rassegna dei ritratti, ritratti di Olga e ritratti di Paolo che abbiamo già detto, e nella fase finale della mostra alcuni fra i più meravigliosi, Saltimbanchi, Erlecchini e Pierrot, che lui ha fatto in questa fase, che so che il repertorio di figure che lui viene dal periodo blu e rosa, che aveva interrotto nel periodo cubista, ma che tornano a popolare i suoi quadri, però con una cadenza più classica, più mitologica, più solenne, che è quella che gli viene dalla sua esperienza nel paese dell'antico. Grazie a tutti.